Perchè testi la mia forza? Potrei chiederti lo stesso. Ti sto solo provocando, no? Voglio vedere fin dove puoi spingerti. Ci bisogno c'è di affrettare le cose. Cerchiamo di divertirci ancora un po'. Quindi devo impegnarmi di più se voglio vedere il livello massimo che riesci a raggiungere. Bene. Allora arrivo. Credimi, non aspettavo altro.